Una casa di campagna nelle vicinanze di Milano che serva da villeggiatura al serenissimo arciduca, governatore Ferdinando. Ferdinando volle guardare tutti dall'alto della sua imperiale carica. Quella che si fece costruire a Monza fu una vera e propria reggia. Semplicità, sobrietà, razionalità, decoro, altro che fantasia. E' vero, adoro la villa, ma solo perché mi permette di venire da te. Da me e da altre, venti? Venti? Diciamo che è una stima per difetto. Dove l'hai trovato? Sotto lo scalone. Chissà, magari era di un re, di un principe. Magari del servo di un re. Ma lo vedi che non ti piace? Non deve mica piacere a me?